Un Palermo diviso tra campo e vicende societarie. Alla vigilia dell'importantissima sfida di campionato al Barbera contro la Sampdoria, a tenere banco e soprattutto quanto accade lontano dal rettangolo verde, con la società di Viale del Fante impegnata nella delicata trattativa con l'accordata americana pronta a rilevare il club. L'incontro doveva avvenire ieri, ma le parti hanno deciso di rinviarlo a lunedì per ragionare sull'accordo. Attorno all'operazione è stato mantenuto il massimo riservo, ma la pista sembra calda e un accordo appare possibile seppur non scontato. Intanto la squadra deve restare concentrata sul campo per lottare coltello tra i denti per una salvezza che giornata dopo giornata si è allontanata sempre più, fino a quasi ad apparire un miraggio. Giocatori allenatore però sembrano crederci ancora e allora ci si aggrappa alla speranza anche di qualche passo falso delle avversarie, vedi Empoli, impegnato nell'anticipo serale di oggi allo Juventus Stadium. Due giorni caldissimi insomma, dove squadra e società si giocano tutto, ma prima bisogna restare concentrati sulla sfida con i blucerchiati di Giampaolo che potrebbe davvero essere l'ultima chiamata. Lopez sembra orientato a schierare il 4-3-3 con Goldani Gassente. Al suo posto Andelcovice dovrebbe affiancare Gonzales con Alessami e Rispoli sulle fasce. Bruno Enrique, Jajel e Ciocev comporranno la mediana e Mbalo si è fermato in allenamento per una distorsione al ginocchio. Al fianco di Nestorowski aggiranno così Salai e Balog.